I numeri sono importanti, è un settore che coinvolge oltre 10.000 addetti, è una parte importante del PIL meridionale ed è soprattutto un settore che spesso fa innovazione ed è pienamente inserito nella transizione ecologica quindi è un settore fondamentale sia perché eroga servizi sia perché è un pezzo del processo di innovazione. La fotografia per la Puglia e per l'intero mezzogiorno è di un settore vitale, poi ovviamente nel caso della Puglia trainato da un partner strategico come ACUP, insomma inevitabilmente. Quello che è molto interessante nel rapporto secondo me è il potenziale di crescita che può offrire il PNRR. Si tratta dei 6 miliardi di investimenti previsti che possono determinare una crescita di mezzo punto del PIL, del mezzogiorno. Cioè vuol dire una grande occasione di investimenti, oltre 30.000 posti di lavoro che si possono creare quindi diciamo siamo davanti a una sfida fondamentale. Il valore aggiunto è appunto da un lato è occupazione, quindi redditi e salari ma il valore aggiunto più importante è l'erogazione di servizi fondamentali perché stiamo parlando di acqua, di energie e di rifiuti, settori che impattano sulla qualità della vita delle persone. Quindi avere una gestione efficiente. Devo dire che la Puglia da questo punto di vista è un modello per il resto del mezzogiorno lo vediamo anche dai dati sia in termini di produttività delle aziende sia in termini di livelli di investimenti pro capite. Quindi investimenti in quel settore vuol dire migliorare la cittadinanza e creare sviluppo.